gentili telespettatori buona giornata e così nella mente di De Luca il granduca di campania che vuole diventare re del partito democratico lui sprezzante con quella che chiama Elena Schlein e durissimo con la Meloni forse più duro con la Schlein che con la Meloni dobbiamo dire il vero ecco Vincenzo De Luca ha detto Enzo quindi lo chiamano Enzo ecco non lo sapevo detto Enzo un po' come Elena detta a Ellie De Luca viene definito il granduca di campania ecco dopo la scomparsa dei Borboni arriva lui e lo definiscono simpatico sfrontato temerario furbo pittoresco e volgare arrogante e poi capace di dolcezze inaudite perché l'idea che mi sono fatto io guardate che De Luca non è una persona cattiva assolutamente no di solito quelli che hanno un carattere come il suo sono buoni come il pane dei pezzi di pane come si dice bene comunque è una persona che ha in mente qualcosa bene gli attacchi alla Meloni gli attacchi alla Schlein alla Meloni ne ha detti di tutti i colori più che alla Meloni al governo disturbati mentali imbecilli farabutti delinquenti politici ecco mentre su Elena dice che praticamente non ha la stoffa minima per fare neanche il parlamentare ecco e lui è il protagonista forte del PD da Napoli in giù e anche da Napoli in su cerca il colpaccio lui diventato il nuovo re delle due Sicilie bene intanto la manifestazione che ha per domani a Roma in piazza degli apostoli è un tentativo di auto investitura ecco 500 amministratori con lui 10 pullman di militanti convocati per protestare contro l'autonomia differenziata contro il blocco dei fondi europei di coesione e sviluppo destinati alla regione che guida ecco il mezzogiorno lo difendo io quindi il modus operandi di De Luca è il sud lo difendo io sono non dimenticato lo dice l'esponente Dem più votato d'Italia essere eletto in campagna con il 70% non è banale dice ho preso il triplo dei voti che Elena Schlein ha preso alle primarie e questo è assolutamente vero quindi i giornali specificano lui la chiama Elena e non Ellie beh ma sentenzione io l'ho sempre chiamata Elena e non Ellie perché Ellie non esiste non esiste Ellie è un soprannome si chiama Elena Edel Schlein Ellie non esiste come non esiste Rosi Bindi e Rosaria Nicky Vendola Nicky non esiste è Nicola Andrea Vendola Nicky se l'ha inventato lui non esiste neanche Beppe Grillo lui è Giuseppe Piero Grillo ecco tutti sti nomignoli non possono sostituire il nome di una persona è come se io mi inventassi adesso un nome un nome d'arte non lo so mi faccio chiamare Lulù Lulù tra i fiori non lo so mi faccio chiamare Cippalippa Quintana Setta non so come mi devo far chiamare come se fosse Antani ecco faccio chiamare Antani vincitore come se fosse Antani per due ecco vice sindaco quindi il giornale di cui vi stavo riferendo le parole specifica che chiamare Elena col suo vero nome sarebbe per De Luca sprezzante ironico ma sprezzante in realtà non è sprezzante la chiama col suo nome di battesimo registrata all'anagrafe come Elena Edelschlein perché bisogna continuare a chiamarla Ellie ma sulla scheda elettorale ci sarà scritto Ellie che non esiste sarebbe un falso cioè non puoi chiamare dire vota per Ellie Schlein perché quel nome Ellie Schlein non esiste è una persona che non esiste Ellie Schlein dovrebbero mettere io se non lo so come spunta sulle schede elettorali ma sulle schede elettorali deve venire fuori come Elena Edelschlein giusto? vabbè anche Nichi Vendola deve venire fuori come Nicola Rosario Nicola Andrea e Rosi Bindi come Rosaria Bindi Beppe Grillo Giuseppe Piero Grillo no? vabbè comunque secondo il giornalone dire Elena è sprezzante vabbè ognuno pensi quello che vuole bene l'obiettivo di De Luca è principalmente la segretaria i rapporti dei due sono praticamente inesistenti lui la detesta lei appena eletta gli spedisce due commissari che raccontavano con il compito di ripulire Caserta dove si raccontava di intrallazzi pazzeschi che c'erano da quelle parti ecco e poi il figlio Piero viene praticamente tolto da vice capogruppo a Montecitorio un giorno si trova retrocesso a segretario d'aula quindi Elena ha il suo caratterino appena arrivata prende il figlio di De Luca e lo fa lo demansiona non è elegante cioè se De Luca si comporta male con te se tu ti vendi chi e demansioni il figlio ti mostri al suo stesso livello no? dente per dente ecco non va bene e così poi a Napoli in un albergo durante un incontro che sarebbe piaciuto molto a Tarantino annuncia al potente cacicco che può togliersi dalla testa l'idea di essere candidato alla regione per un terzo mandato e così alla fine De Luca senza essere più nel PD come candidato in Parlamento senza essere più diciamo presidente della regione Campania sarebbe fatto fuori dalla politica praticamente ma lui molto innervosisto disse andrò avanti nei secoli ecco e poi parte la presentazione del libro nonostante il PD ecco e aggiunge ho appreso che Elena si avvale della consulenza di un armocromista la quale si fa pagare 300 euro all'ora si chiama Enrica chicchio cacchio mi verrebbe da dire dice dice De Luca forse è in quei giorni che inizia a prendere forma il suo piano bene il suo piano è a una dimensione nazionale punta direttamente a Meloni per fregarsene della Schlein e anche magari per poterla sostituire però voi sapete che lì nel PD funzionano solo le correnti non puoi emergere senza la corrente che ti sponsorizza grazie a tutti e arrivederci a presto